Ciao ragazzi, non ho più quella voce di merda che ho nel vlog, ma vabbè E oggi siamo su Clash Royale, come vedete nello sfondicino Siamo con lui, lui ha anche un canale YouTube, vabbè Ti allarghi Io l'ho fatto Ok, vai Ok, piccettino Però tu mi guardi, questa è una cosa che è possibile E vabbè, ci sono solo io in sua vita Vabbè, vai Alla condizionata nel traffico che c'è No, ho sbagliato te Ho sbagliato te E ora che ti batte Madonna che attacco Sì, 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 farlo, farlo Farlo, farlo, farlo BOOM Ma quando io l'ho lasciato al piccettino Voglio vedere se Ora Inverni Aspetta Bastardo Ah nooo Io mi metto Il papà Dove le mette la scarica Ma che stai? Ah, non ce la hai? Sì, ce l'ho Ecco, poi vedelo Sì, poi c'è il bambino Scarica il mio bambino Grazie, non mi vuole No, io proprio ce l'ho No, non mi vedo che io C'è il bambino Io ce l'ho proprio il bambino C'è il bambino Ma io sono un cretino Un foto Di quelli potenti Che il mordello di danno Perché c'è Vabbè 3 di danno Oh Oh Una palla di fuoco ci vuole Per forza Oh Sexy Bebe Oh Oh Sono andato a scherzo Oh Non avevo la scarica Ah 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 Madonna Che danno E si va a vincere Il giocatore è disponibile Sì Sembra quel deck Sembra quello mio Te l'hai cambiato Te l'hai cambiato? Già so quale hai messo Ora mi spacca il culo Quella con tutte le lecce Quella con tutte le lecce I capelli che ho? E quello con i tre moschetti Ma tu allora ci sei o ci fai? Compaio so come fermarti le lecce I tre moschetti Sì 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 Nooo Sbagliato Da aggirati bravissimo Vabbè ho fatto una cosa di me Che bella non mi piace Sì 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 non mi hai scaricato un video di questo vai a mettere no, Gesù, che te lo fa ma io per curire va bene, dovevo leggere le foto ma io non ci scassate ma io cosa mamma è giù, è giù io prendo le foto è lunga è lunga sicuramente c'è la maxi combo e io con un po' io con un po' io con un po' mi fa io ti devo dire perché? no, perché? vabbè vabbè, vabbè 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 vom e si va a vincere 2 a 1 ora cambia il deck ed è la seconda come fa? la vita cambia il deck ok 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 Provo questo che ho Però Devo fare una modifica E ora arriva il bello Mi devi stare preoccupando Metto Ora sei fotocaminta Devo Devo L'ho fatto L'ho fatto Non so però La combo Allora Ma tu ce l'hai La batteria Non mi piace Però me lo so Non ce l'ho fatto E' un'altra cosa più bella Vabbè ora si Tu non l'hai cambiato Anche te la butta Io Io lo so Sicurissimo È il 100 per il 1000 Pure il 104 per il 1000 Sicurissimo È il 100 per il 1000 Tu non l'hai cambiato No io l'ho cambiato Non vedi che ho Tipo No però Vai 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 Sbom Che ho fatto Vai con un golferino Sbom Che danni Non mi piace Non mi piace Non mi è piaciuto Vai 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 basta oh non mi ha basta no tu hai un indore ora posso andare ah non posso difendere ora posso andare non ho niente dai vedo guarda non faccio niente non faccio niente non faccio niente parla allora io ti butto questo parla 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 ok ecco ecco allora che mi hai buttato? parla parla guarda qua come se ne vanno compa è la vita che ancora non ho attaccato compa io non ho attacco a parte queste due carte che ho ancora non ho attaccato aspetta che la fornace si aspetta che non la fanno male non provi devo difendere tutto quanto danno il compagno lo devo congelare è che giro? è tutto po' giro? si mi chiale come si mi divino? giro? giro? vuoi stare a vanno di più? vuoi stare a vanno di più? vuoi stare a vanno vuoi stare a vanno? vuoi stare a vanno? vuoi stare a vanno? vuoi stare a vanno? si basta guarda 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 non posso mi faccio toccare allora no ha detto vizie va a far vabbè ora metti la giaccia vizie va a vincere no vizie va a far vizie va a vincere No No, 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 no No, no, no Pistotto no ma come si può Al diciassetto No, perché al diciassette Perché al diciassette No No Vabbè, vieni qua È stato bello Che bello Allora Ok ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto Arriviamo a 2 like Arriviamo a 2 like Per avere un altro episodio Con qualcun altro Abbiamo fatto 4 partite Tra cui 2 vinte io e 2 vinte lui Quindi poi ci sarà una breve ripensita Che forse metterà la con il video E spero che questo vi sia piaciuto Arriviamo a 2 like Seguite su Instagram 2 minuto qua Quello là che gli piace a lui Quello Bellissima Allora Allora Allora